I confronti sono sempre poco graditi, perché in genere si mette in cattiva luce qualcuno a vantaggio di un qualcun altro. Eppure oggi il Vangelo ci consegna un confronto. Dice che Giovanni Battista, sebbene il più grande, tra i nati di donna, lui è più piccolo rispetto al più piccolo nel Regno dei Cieli. Ma che significa questo? A che serve questo confronto? Di fondo potremmo farci anche questa domanda. Ma alla luce del Regno dei Cieli, chi è più grande? Il Papa o un anziano che si trova abbandonato e dimenticato in una casa di riposo per anziani? Chi è più grande? Alla luce del Regno dei Cieli, un vescovo o un padre di famiglia senza lavoro, chi non sa come sfamare i suoi figli? Chi è più grande? Un prete o una donna prostituta? Il punto è proprio questo. Alla luce del Regno dei Cieli, il Papa esiste per l'anziano, il vescovo per il padre di famiglia, il prete per la prostituta, cioè sono più grandi i destinatari del Regno dei Cieli. Qualunque ministero, qualunque carisma, qualunque personalità, sebbene importante e a servizio di questo, così lo è Giovanni Battista, sebbene grande, lui è a servizio dei piccoli, di quei piccoli di cui Isaia parla e lì descrive come vermiciattolo, come larva. Sono i destinatari del Regno dei Cieli ciò che contano. Cosa cerca ciascuno di voi? Essere grande come Giovanni Battista o essere piccolo ma far parte del Regno dei Cieli. Questo è il grande annuncio che oggi la parola ci dona. Buon amissio.